Ciao people of youtube, welcome back to a new episode of Centro 3 Remastered a parte degli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con l'inizio di un altro DLC e a quanto pare il clone di Johnny sta girando per la città, il nostro compito sicuramente è fermarlo, quindi oggi farsa partenza, 3 km da più anche oggi, ok, va bene, adesso arrivo, non ti esaltare troppo, ed eccoci arrivati a casa di Jimmy, oh calmo, dai, ok, beh è un piano, ma che ne sa un clone, ma scusami, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, non posso scendere di qua, eccoci qua, arrivati nel minor tempo possibile, ma io davvero dovevo sparare delle api, via da qua, via, forza, via da qua, ma poi? porca, ecco fatto, dove sono? ma davvero dobbiamo usare una sparati sui nostri clienti? dite che ce la facciamo? morta? ma a parte che non vedo nessuno che sta cercando di distruggere il palco becca di questo back in the day basta che ci muoviamo allora dai vai via e che cavolo su, 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 tutti dentro eccoci qua il canto di Pierce abbiamo solo due minuti abbiamo due minuti per arrivare a un chilometro di distanza, ce la facciamo? no, io dico di sì anche perché secondo me poi in realtà sarà ancora più lontano se non ricordo male se non ricordo male non è neanche questo il planet saints in cui dobbiamo andare oh, 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 che casino dai però muoviti madonna mia che casino incredibile oh, certo che Pierce si diverte oh, oh, che dolore ma ti levi aspetta ecco fa get, non fare casini ahia io ti giuro che non l'ho capita perché dobbiamo usare quest'arma forza vi dovete levare tutti dalle balle allora ascolta aspetta che oh, Johnny calmo, calmo dove sei? ecco fatto è stato facilissimo perfetto vai preso in pieno su, 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 dai preso dove sei? mi manca ancora uno su, 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 su muoversi, muoversi tanto stiamo facendo trofei come se non ci fosse domani quindi ah, dai ce l'avevamo fatta se non era per sti elicotteri delle balle ce l'avevamo fatta a riprenderlo trova Teg che è il clone cattivo di gett oh, calmi su, su su ok ho solo le pistole davvero su Johnny Aia che male Ma l'avevo schiacciato la X Corri Stai lontano da Isha Tag Ecco fatto Ebbè ma ci credo che un uomo gigante come questo le api non gli facciano nulla No 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 Gli dobbiamo sparare in faccia Ah ok però con la pistola spara api dai Almeno è contestualizzato Almeno non vi abbiamo sparato il cervello così Non ricordo sta scena Ebbè c'ha ragione Aisha Si è un elicottero No Aisha Di nuovo Stupidi militari Eh ci serve qualcosa di potente Poveraccia Farsa partenza 11.000 dollari Un bel po' di rispetto Hai trovato Aisha bruttella nel telefono Madonna mia Ora trovi il Torbitron a disposizione Peccato però non avere la pistola spara api Però siamo saliti di livello Cosa abbiamo preso? Nulla Però abbiamo un po' di soldi? Neanche un po' Ottimo Peccato che la pistola spara api non te la danno Quindi signori vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Solti a dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Noi ci vediamo al prossimo episodio